però eh ci stanno 14 15 fan che mi scrivono ogni tanto no no buono buono grazie ascolta comunque grazie mille se metti un 5.200 già è più fattibile come cosa perché metti che anche la season inizia da poco quindi gente 6.000 non ce ne sta tanto top 900 dicono in chat ah ho messo 5.300 si è buono è buono 5.300 allora dopo le cambio le metto 6.000 top 900 in italia il clan dei matto ok ma che cazzo non è che stiamo parlando e qual è il clan numero uno adesso te lo dico aspetta siamo arrivati top 5.300 l'aquarius il bonus la cupola prima in italiano ma che cambia dopo devi fa il crano dei ciccio primo ma che cambia raga cioè devi devi essere ci sta il crano di piazza allora per arrivare in top devi avere le coppe quindi che se tu metti il minimo 6.000 coppe ogni gente che c'è ogni persona che entra 6.000 coppe quindi ci sono poi tante coppe complessive nel clan tipo quello di piazza e sta settimo in italia poi quello di ciccio sta quindicesimo quindi mette gente solo forte mette gente forte si 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 ma lo fanno apposta proprio c'è per arrivare in top e poi ci sta il primo del can di piazza che sta top 450 al mondo si chiama mario 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 brega ciao bello allora dove andiamo no a parco a parco vai un bello parco dei peccati guarda costruisco faccio edito ma io ho visto buco come cazzo edita buca ma è una bestia ma pure pizza ma pure hai al baffo cioè e comunque mi hanno detto che è scarso cioè è diventato scarso buca non lo so non lo vedo tanto a giocare cioè so che ha smesso un po' però scarso non penso ha detto che gioca per divertirsi mi hanno detto vabbè tanti i soldi l'ha fatti quindi eh sì certo certo voglia grazie mille slide dei tre mesi e le sabbe un bacio enorme è buono però è forte è forte vabbè i soldi per la vita beh diciamo che se uno ci si mette cioè finire un milione di euro due milioni quello che è tre quanti c'è una quantina fatti eh solo dalla solo dal torneo un milione e otto penso ma poi non so il resto onestamente ti assicuro che finire i soldi cioè fai subito a finire i soldi se li spendi male vabbè cioè poi lui ancora non è che è tanto grande cioè verrà adesso 18 18 o 19 adesso non ricordo se li spendi eh esatto sai come spendere un milione di di doll chi è ha pensato fossi tu cazzo no è stata me allora qua vabbè tra vabbè tra adesso lo voglio ci diamo eccole guarda come si faccia arca troia perché ricarico sempre l'arma è un tic mio oh la che sta facendo questo cazzo mi sta mi sta a sparare a me mi sta a laser ammazzato ammazzato sì l'altro è lontano ma porca troia ma non è nemmeno un problema di mira è un problema che proprio sta sta cazzo di arma cioè c'è un rinculo della madonna aspetta vado a uccidere quello ma a te arrivo vengo pure io vengo pure io fermati fermati arrivo io arrivo arrivo sicuramente è uno snap ma a te dentro qua c'è snappo dove è andato eh ha capito dove è andato però 25 25 pure io eh si è refullato si è refullato non ci interessa a noi quello è un cazzo di snappo guarda a me a questo che ci troviamo noi eh ma pure da sopra ci sta sparata da sopra il lufo guarda guarda che rincoglio il nito buongiorno buongiorno è buon hit è buon hit è buon hit non c'ho vita orca droga sto cazzo le botte che merda intruto no di prego eh no è baffanculo qui su qua sopra altro snap no questo è un bot dai 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 il gioco è altissimo oddio scusatemi ditemi voi quanto è forte c'è delle cure qualcosa vieni con me possiamo tornare al parco sali sali sopra torniamo al parco e lo diamo là tanto ci sta più nessuno tu come cazzo fai a fa' il coso che vai più veloce con che con che lo fai da me con cerchio ah là c'è là c'è quello eh quello dopo dopo lo voglio eh sì sì lo diamo qua per ora così troviamo pure tutto cari dai e allora sto proprio ci sta un fogolaio da qualche parte qua vicino eh sta a spada l'ho fingato al blu allora dopo lo faccio gli scendini mi servono allora eh anche a me cioè no a me no però non li ho niente io eh più uno ne ha meglio è no certo vabbè massimo sei ne puoi tenere quindi se ne sei sei a posto sì sì vai vai ok non sono trovati tre io fatti fatti le penne mentre ma qua c'è pure un medic sì c'è perfetto mi faccio le bende piano piano allora il ping dove stava il coso il fuoco ma sta lì al centro dove si vede in teoria l'hai visto boh guarda te l'ho pingato proprio ma te sta sul ping blu ping blu sì ah ma non lo vi ah vabbè non sta proprio al centro centro dai no vabbè però centro parco nel senso tieni no ho sbagliato ok uno e due perfetto sto full io 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 perfetto cagandos te l'hai bomba? no io ne ho uno ma ho sette colpi ah questo non è niente ok allora qua c'ho la mitragliatrice buona eh mi serve solo un pompa mi serve un pompa e sto a posto proprio non lo troviamo se no bisogna andare la no c'è stato un rifornitore di pompa? no però l'ho trovato per me? sì arrivo spero che sto abbia colpi ok sta partita me la sento vinciamo per me cioè grazie a me questa è già vinta ma te sicuramente sto scherzando secondo me una busta di bischio come me sicuramente perdiamo secondo me perché se vede così male come se vede male ragazzi alza la qualità scusami se se vede male se vede male no no io vedo bene si è abbassata ma non è 1080p raga no no ci vede bene ma ma io l'ho messo in 480 perché se no l'acqua capito l'ho messo sull'altro schermo però ce l'ho in 4 sì sì orca ok c'è il coso sì 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 no ping questo qua andiamo ah eh sì arrivo io prendo la macchia cc vieni qua ok se vieni qua ce lo facciamo questo vai ok ok ma sta cazzata ci stai in arena vabbè un cecchino e questo che fai luuti via ma questo me lo pio io bello poi mi piace questo è un bello forte appena ne vedo uno papam non ci vado ci sono gli alieni non mi piace però questa zona via 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 andiamo 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 in safe come stai messo materiali sono a 700 di legno 60 e 100 di ferro ok la non è lootato eh la è tutto free stanno tre casse aperte c'è chiuse penso che sia free penso eh non lo so vabbè adesso se c'è una build lo scopriamo subito c'è un medikit ok buono 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 qua ci stanno i colpi là ci sta altri colpi ci stanno questo è buono sto coso qua eh beh che fai te ne privi perfetto ok qua ci sta un medikit lo stucco io comunque se ci sta l'evento stasera mi sa che lasciano i server off fino a domani a sto punto eh va bene va bene che gli fa farò guarda cosa altro farò in mezzo dentro di colpi il buco nero si ah perché sarà un evento tipo quello tipo buco nero eh non lo so se fanno l'evento stasera credo che non si possa giocare fino a domani quindi non so cosa mettono allora porca troia non gioco non gioco le monete perché non gioco più le monete cosa volevo comprare no vabbè c'era il coso scarro e oro potevo fare ah io neanche ne ho 170 perché non me non ce l'ho più beh è strano che non ce l'ho più oddio safe cazzo che coglione che coglione non ho visto la safe cazzo mettono mettono il blackout per due giorni dicono blackout due giorni senza fortnite che faccio vediamo oh ce ne sta ci sta uno ci sta uno si 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 cazzo ma ce l'hai con me porca di quella puttana chi è che ce l'ha con me qua qua dentro io ci sono salmo un buildare e basta non ho capito motto uno bravo matteo assecco dio te hanno un scudone no solo i sceldini a secco l'ha pigliato sotto lì dendi l'ha pigliato cazzo dove ok amore un cecchino dove lì dentro guarda orco di ok atterrato vieni vieni giampiamo giampiamo era bianco eh bianchissimo cazzo per quanto poco ma chi è che sta la sera scusami morti due erco ma chi è ma che cazzo ne so questi non hanno capito che ci sta la safe c'è una jump matteo no cazzo stanno da me non ce l'ho non ce l'ho non ce l'ho eh aiuto aiuto si arrivo arrivo è bianchissimo è bianchissimo matteo c'è uno di vita ha preso la jump si parca diavola attenzione 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 l'avevo lacerato male a questo morto? guarda tu che è fulo no purtroppo no dio mio beh ce la facciamo ce la facciamo eh il problema è che io ho pochissima vita veramente poca copiti 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 tu segui me seguimi ok mi faccio il coso il medikit no non ce la fai non ce la fai non ce la fai dici no 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 quanto togli ora 5 70 ti ho fatto tutto il coso ma vaffanculo va è morto? no io no cioè niente lui ma vaffanculo quando godo se te piglia e se ne ha paralisi di quelle porco iddio 5 a 1 devo tirare un medikit pure io metto a tirare un medikit guarda questi come giocano che schifo morto 1 ho traccato l'altro ma non capisco dove cazzo sta morti 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 si coglioni ma da dove? erano sopra devi salire Matteo ci sta la safe eh provo a salire ma te ce la fai eh sempre se non viene qualcuno a romper cazzo qua ok ce la faccio ce la faccio ci sto no 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 ci sono io ok ok ci sto ci sto una partita stra emozionante diciamo oh da qua dietro cazzo c'ho solo c'ho solo mattoni e c'ho solo ferro oh bianco allora io io ok c'è qualcuno qua sotto? vero oh cazzo oh 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 ehi ah ninja ah ninja arco dio arca troia o aveva su quale di dava sparava una madonna o hai visto che roba è tutto ok amore che hai hai uno stupo dove stai qua allora vuoi giocare con me come gioco è col pc tuo o il pavirino noi amore Ma con il live vuoi fare? No, non tu giochi Ma che 100 sub raga Ma mi pare che faccio 100 sub io Ma te sto a mezzo milioni di punti Ancora E' easy cazzo Quanti ne avevi puntati? 150.000 Io ho altri 150.000 punti sul si E' a posto Oggi ti sei fatto un milione di punti Commenti K Amore vuoi che te faccio una partita col tuo? Ma se sei con l'amico tuo Cioè te ne vende il mio livello Il mio livello è il mio livello Perché te ne fa tutti Poi tre livelli si fanno Con niente è più veritario Dice? Come faccio a prendere i dati miei? Cioè devo mettere tutti quanti le cose miei? Ma la foto un attimo Ma che palle amore Ma che ce vuoi? Io non ci ve lo uso No Quella è solo la sensibilità è Poi teniamo tutto uguale Non è vero Eh sì Allora andiamo dai Ma andiamo a foschi che da tanto Non ci scende Amore te ripago io Lo passo Ok Raga non scrivetelo Che non è vero Ma mi pare Ma ragazzi Ma dai Ma è un titolo clickbait Dai Ciccio che clickbait Da sempre Cazzo No non è vero Non è vero Eh Una volta ha fatto un clickbait Della madonna assurdo Tipo sui spacchettamenti Sulle carte pokemon Aveva detto Che aveva trovato Non mi ricordo Che era Un charizard Da mille euro Poi alla fine Vabbè Lo so Sono sceso male Quanto male Tanto Vai qua Vai qua Vai qua Vai qua Dai Ok No Ho trovato lo spazio Come prima arma Spazio di marmo Ho trovato lo spazio di viola Ma questo si rompe con la macchina Cosa? Ah no C'è basta attraverso Eh io ho trovato qui Lo blu Bello Buono Ah se è finculogna Ovviamente Vero Noi non c'è davanti Dai Con la macchina Vediamo subito Qua dentro c'è uno che cammina Che fa? In che senso? Ah ma abbiamo un botto Mi sa Che è l'ingarico? Ma è Ma è superman Satizio Ah boh Ehm E dai eh Io che spara? Io io Beh perché sto un po' Imparoneiato Sei impannecchiato? Si imparoneiato sto C'era una cassa Ma non capivo Qua è Fangulo Io farmo Che devo fare? Vabbè Dobbiamo trovare gli scuoti Ma senza scuoti Qua Gli facciamo l'account Alla ragazza mia? Che dite ragazzi? Gli livello l'account Alla ragazza mia Gli livello? Ma si può fare in live? O è bannabile? Ma che è bannabile? Ehm No Mi penso di no Tieni ma sta Eh buraccia Se no Dopo non c'hai i soldi Cioè non è che non c'hai i soldi Andiamo Insomma Vabbè Alla fine è 10 euro Cioè O per 10 euro Fatito Eh amore Ma se stai mi avessi piuttosto Non lo spende Allora Che è qua dentro? Ok Eh amore È una possibilità Come spendere Che poi devo spendere Ok Esatto Eh stucco io Parmiamo Mentre si farma Qua se non farmi in pubblica Muori No vabbè Più cazzo Perché ci stanno gli UFO Che ti spaccano le costruzioni Le madone Una rottura di palle Una rottura di palle E' anche qua Cioè se vai presi in binarena Fa paura Alla Cioè le persone Dove poi Pizzo ti ha portato a 6.000 punti Ho visto Hai visto? Grazie diatone Eh sì Adesso Cioè Non so se è stato Word Conveniente Perché comunque Se tu ti puoi fare dell'arena Adesso Ti viene un po' difficile Ma c'ho il secondo account Che c'ho Che è una busta di bischio Il secondo account Ah c'è il secondo account Ah allora Easy Però vabbè Con questo Voglio arrivare Lega contendente Cioè Lega campione Vorrei arrivare Scusa Quanto sei? Ah boh Ma t'andammo Se t'andammo Se si resetta tutto no? Eh sì Penso di sì Almeno che Non gli lasci Fatti questo Yo Quelle te le rompi tu? Ok Sì sì Vai vai Te le lascio un po' Te spara no? Dove? Non lo so Ho sentito No Ho visto tipo degli spari Delle cose Sì sì Vedo gente Vedo gente davanti a me Sono qua davanti proprio Ma te No ma che c'hanno l'alieno No c'hanno l'alieno Pazzisco Caccia l'alieno cioè? Hanno l'alieno questi Ma te Cazzo E quindi? Eh quindi un po' Una rottura di palle Fai dare con questi Cazzo lagga Dove stanno? Uno sta qua da me 40 blu 40 blu Quello che sta lì Bravo Uno di fare Muttare Porco dio Se Eh vabbè No niente Pezzo di merda questo Dove non voglio niente Perché sono scarsi Hai capito? No questo non è scarsi Ah No no è scarsi Tutto Chita Vabbè Per te niente è scarso Urca Eh l'avevo sentito Che arrivava però Che poi con gli alieni Non ci sono Anche la tua mira Con l'infante Capito L'alieno sarebbe Quello che c'ha in destra Sarebbe? Esatto Io non c'ho l'automira Però L'ha capito Mi viene difficile Fai dare la pad È buggato Non ho ancora fixato niente Cioè Non ho capito L'automira? L'automira Sì da pad Se quello c'ha l'alieno Tu non puoi Non puoi sparare Non c'è l'automira Il perché Non lo so Eh Mo prendi il tazzo Però senza alieno Figlio mio Cioè Che dura Com'è sta cosa Che non Se c'ha l'alieno Non Ma non lo so Non lo so Tutta Tutta rotta Ma che c'è sta un altro team Non lo so Ambe Tutti due bianchi eh Non c'è più scudini Questa è sta facendo Per terra Cazzo Ca' troia Cosimo Giba Che vuoi dire Ma te devi dire Ragai E devi mettere Inviarmi I messaggi su Instagram Per rispetto a te Non gli rispondo più Chi è amore Chi è sto Cosimo amore Cosimo non lo conosci No Quello che mi doveva vendere il sacco Stavo contattando perché mi doveva vendere il sacco Madonna che coglioni questo E' un po' di laser Vediamo di no O te laser o te insegue Poi ancora con i comandi nuovi non è che sono Al top Mi confondo tante volte Sì sì ma ci sta insomma Madonna ma chi è sta gente E' quello di prima Niente rompe Ah c'è pure lo qui C'è tutto C'è tutto Oh no Ah ma pure questo Porca troia ma già tutto sto stronzo Niente mi sa che Ma questo è forte Era bravino dai Breveto E' pure Eh fatelo un medico Sennò come fai Ah vai via Sì 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 Via via Cazzo non dimmi a sinistra Cazzo Dimmela sopra che te Occhio occhio Sion Un lama Ah madonna C'è un lama sì Mettete qua dentro Curate Guarda come lagga No no non solo a voi lagga ragazzi Pure a me lagga Ho perso la segnalazione Prima alla telecom Mi ha detto che E muori Ok Dai la recuperata Mamma che pattitona Che stai a fa Guarda se non fosse Prendersi un oio Quello era morto Tipo 20 minuti fa Quanti scolini sono questi Quattro 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 E' sto rumore Matteo io ti vorrei buttare No ma vai tranquillo Ah cazzo 21 persone No Eh me sai Qua c'è mori eh Tanto quello Lo facciamo scendere Ne è uno Ah no un bot No no E' un bot Ma che ci fa un bot qua Guardalo guardalo Ah cazzo Ah puoi prendere questo Puoi prendere Com'è che si spara Eh non lo so Eh questo è forte eh Ogni volta Ti dirai certe botte Ma Eh te conviene Scendando a piedi Mi sa Stavo scherzando Stavo scherzando Ve lo giuro Madonna quanto sono Incazzati questi Riverci 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 Eh porca Troia Eh ma questi C'ha la madonna Sulla testa C'ha Eh non posso Fai dare Sti cazzo di botti Io impazzisco Sono bot Dici No ma Gli alieni Dico Guardalo Che schifo Che sei No non c'ho Doa mira Non posso fare nulla Ma so fan Allora Se siete fan Quando muore Fate su in gioco Come se lo pigliate in culo Madonna Con tre di vita Sion Eh madame Infedabile Così Come cazzo faccio Perché poi giocano Con l'alieno In pubblica C'è la troia Ma perché è buggata Sta cosa Eh perché Forse mi fa cacare Matteo Per quello È un mese Che si lamentano Quelli che giocano Da pazza Ma Gli sbatte il cazzo Quanto ho capito C'è una a destra Occhio eh Sì ho visto C'è anche una a sinistra C'è il fuoco Yo yo Tizza Tizza Eh Che cazzo Il coso L'ha fatto spegne Insomma Un po' godo Posso dirlo L'hai spendo col cannone L'hai spendo col cannone Onestamente Non lo sapevo Dicono che è giusto Così perché Il pad E tutta quanta Atomira Ma cosa vuol dire Beh anche sta cosa Dell'atomira C'è Dovrebbero mettere Pure su mouse La tastiera Perché su mouse La tastiera Non c'è Stalla Atomira Eh perché Metti che Da paz Hai esattamente Un centimetro Per muovere L'analogico Un centimetro Se di più Non puoi fare Da mouse tastiera Tu col mouse Puoi anche giocare In braccio Cioè giocare Tutto a ferro Capito Promovere ovunque Quindi per questo Hanno messo Eh certo C'è Proprio una questione Di Che col pad Sei molto limitato Cioè se non ci fosse L'atomira Da pad Non giocherebbe nessuno E poi da pc L'atomira È molto ridotta Rispetto a console Da console Ci sta un sacco Di automira Rispetto a pc Cazzo Ad esempio Come lo abbiamo L'atomira Ci sono stati I battiti Che quelli da MK Ci hanno I reset Con la rotellina NK Ance Mouse tastiera Sarebbe MK Ok Tendo Tendo Lì Sì sì L'ho visto Tipo Quelli da Mouse tastiera Hanno le sette La rotellina Capito Oddio Ne sono due Però quello Secondo me È una busta Di piccio Con lo scar Eh ma questi Ci hanno Tutto Ci hanno Si può giocare Così in pubblico Io dico No ma il problema È che Stai da solo Cioè da solo Te le vince tutte Secondo me Da solo Oh Mi sono cagato In dosso Non l'ho sentito Lo giuro Ma c'è un gioco In cui Si gioca Senza Tomina La pad Eh Oh la pad Mi sembra difficile Io gioco MK Cosa GTRP Carca Missato GG Figlio mio Cosa facciamo Faglielo un balletto No Faglielo un balletto Faglielo un balletto Ok Giusto per essere Un po' tossici Allora Siamo Uno contro Uno contro Due Eh Sì Sì Ok La 2.000 c'è anche Sull'RP Dicono No Ma in che senso Ma non si può giocare Da pad 2.000 Ma in realtà Si mette il pad Penso Però su 5.000 Non penso che Dicono di sì Ma su 5.000 No ma su GTA Ah era Ah su GTA No su 5.000 Ah Però in realtà Se colleghi il pad Forse ci sta la 2.000 Oh 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 Sì Mi hai tolto Adesso No Lo devi colpire Proprio in testa Eh La sto prendendo in testa Che Paul Sono quelli di prima Quagli alieni Immagina Chi fa Cioè Chi fa i tornei Qua col cecchino Devi pigliarlo Dove sta l'altro Poi Ah ma siamo Uno V1 V1 Vabbè Che sbocco Però ci vuole così C'è un cecchino C'è un cecchino qua Sì Ah col cecchino Vai diretto Proprio Ma guarda come gioca Cioè Cosa dovevi fare Bro E guardano Però sta in safe Dai Dici Dici almeno quello Cazzo Non c'è nemmeno più materiali 500 materiali E appunto per quello Non push Alcuni server Tolgono l'opzione Dal pad Ah ok ok Ho capito Capito Alex Sente Sente sabbio di regolare Ma tu il senso Mi ha fatto un'attima No non ci sta Peccato Vabbè Forza Guardalo l'altro Eh Ah c'è l'arberio Da acqua sotto E' vero Mi dice la ragazza mia Ah che c'è Altri materiali sotto L'ha detto che ci stava Vabbè ormai Non sparare a me Ti pego Perché ti vengo a prendere A casa Te lo giuro Oh Quello sotto Adesso ci fa cadere 100% Che non lo so io E' quello se faccia Lo chiappi Lo chiappi proprio in testa Lo prendi Guardalo come lo prendi In testa Ah Rappio con te Ce l'ha Cari la droga Si è scivolato Materiali Non c'ho nulla Ma è finita Ma E' finita Ma Guarda quello sopra Che schifo Arriba 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 arca Grande Sionney Che partidona Che partidona Che partidona Cazzo Mamma mia Cazzo che partida Comunque muore puoi giocare da telefono Se vuoi fare i punti Se vuoi fare i punti Cazzo che partidona Allora grazie mille KatoTV Grazie mille tre mesiere sub Ciao bello Grazie mille Grazie mille a CoqMod4 Grazie mille anche a te del subscribe Grazie mille il miglio verde del subscribe Anche a te E grazie mille anche a Ciuffo Lafio Flavio Della sub Grazie mille E Silery Tre mesiere sub E IceGord pure Bano IceGord Ciao bello Allora Ultime due partite Te lo dico Poi dopo vado a fare un po' del clash Stacco Che devo Anzi no Vado a cucinare E poi Poi L'evento Sì sì Mi scrivi tu Mezz'ora prima devo entrare Mezz'ora Manca 40 minuti Ok 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 va bene bene Sì sì io entro All'evento 1 e 20 entro Cos'ho mai Ti scrivo su Instagram Su disco Perfetto perfetto Non mi abbassa all'arena amore Sto all'arena 11 Ci sono messo tanto per arrivarci Sto all'arena 9 Eh Non è 11 Eh Fa schifo? Sì Perché? Fa schifo Ma non è vero Non fa schifo amore Gioco da poco Non mi concentra Un'oretta prima Devo entrare? Allora se devo entrare alle 9 Massimo alle 7 e mezza Devo sta a cucinare Un'ora No ma te poi un'ora Ti cadono Ti cadono le palle Un'ora Cioè Un 40 minuti Entri e poi Mentre fai altro Apri clash Mentre ti fai qualche game Ok ok Allora Adesso Facciamo ultimi due game Come ho detto E poi Un po' di clash royale E poi Un'ora è meglio Dicono che è meglio un'ora Perché Io non sono mai partecipato A un evento fortemente Ragazzi Non ce l'ho mai stato Andiamo a cala credente? Dai Non ci sono mai partecipato Perché sono morto La partita scorsa? Ah perché Mi è arrivato Quello là Che aveva L'asciugamano Sul collo E mi ha ucciso Ti ha fatto 200 Quello Oggi Enrico Non c'è ragazzi Purtroppo 200 Mi ha fatto? Ok si Mi ha sciottato Mi ha tirato Una bombata Ma Mi ha sciottato Proprio Non mi ha dato Nemmeno il tempo Di sparare A parte che Mi stavo curando Quindi quando Sendo qualcuno Che arriva Forse è meglio Già puntare Eh ma quello Mi è venuto da sopra Pam Un botta Mi ha ammazzato Amore E Anna Non mi ha lasciato Le corone Amore Anna È un bot Nessun clan È un bot Tu usi un bot Amore Amore Con il bot Pure il suo bravo Vince Guarda qua Ti ho aumentato Le arene De 25 punti Ma ho aumentato Sento ma te Che ci sta un tizio Adesso Io ce lo so No dai sopra Cazzo No aiuto Aiuto Marcato Roia Niente Sono morto Eh Italiano È snap Questo Questo Snappa anche Nezak Per farti capire Lo conosci Nezak Sì Eh Pure Nezak Snappa Ma dai Ma farne sniper A chiudere Qualcun altro Nezak Non l'uccide Nezak Gli palla E ti uccide Capito Ma sei sicuro Che è lui Sì Sì È lui Si chiama dentro Cioè Non credo che Ci sia Un altro Che si chiama dentro Cioè Deve essere proprio Stupido Ma può essere Che sta lì a caso Dai Non è Ah pure Ah pure Raggins Snappano Vabbè Comunque Ciao Dentro Ciao Io ti vengo Dentro No Mi dissocio Io Eccolo Guarda 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 Ha acquittato Ha acquittato Contento lui Ma perché poi Ma perché Cioè Non capisco perché Perché si divertono A quanta paura Sinistra Lo sento qualcuno? Sì Sì L'ho sentito Oh Dai Che nerd Cildone Fatelo Eh Dove prendere la scheda Prima C'è pure la jump Lì Volendo Come che stavi La jump Eh perché L'ho presa Sopra L'ho presa Presa sopra Il posto Sceso sotto Guarda Guarda Questo Guarda Oh Ma che cazzo Sto vedendo Ma che c'è Sono messi Insieme A busta De picio Guarda Tu mamma Non ti dico Cosa faccio Perché Matteo In live Però Poi te lo dico Che hai fatto A mamma Dopo In live Addirittura Mi ributi Adesso Ok Allora Mi devo concentrare Arriva Ah io non c'ho materiali Ma sono morto Ah ma è un altro Questo E poi è scarsissimo Ma te lo dure È troppo scarso Puoi anche Rebuttare se vuoi Fattolo 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 Dai Dai non c'è L'ho provata L'ho provata Dai ci ho provato Era l'ultimo Porca troia No non era l'ultimo Non ci credo Dai non ci voglio crede Porca puttana Però Per quanto poco Sion Per 13 Veramente Che sfiga 250k sul si Vai cazzo Questo vince Hai puntato 250k sul si Ok E allora ragazzi Puntate tutti si Perché adesso Trajardiamo Con il porci Cioè Ci si prova Trajarda Trajarda Pure io Trajardo Eh però qua Ho trajardato Pure io Solo che Non c'ho Un materiale In gioco Niente Come cazzo Facevo Non lo sono fatto Con la nico L'aveva il pompa Cioè La nico Che è sto Torino Di D'aranciata La fa Fa me un po' Senti Che è Gioca Si Gioco Gioco Allora Sion Parco Vai Ultimo game O se vince O se perde Volume Tutto Mi concentro Devo scendere Dove stanno Le persone Però Dove Dove Stanno Le armi Perché Se non Gio un'arma Cioè Pure una pistoletta Del merda Mi serve Però Secondo me Dovrebbero fare Che tipo Quando Si lo so Che è troppo alto Mi ha supportato Un bacino Un bacino Ed danni Te lo do pure senza Un bacione enorme Ciao bello Devo iniziare a fare Il puttano Amore Esci Sordo Esci Eh Esci Sordo Abbassa Un po' Ci sta Mezza Lobby Ma Cato Emo Via No 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 Eh Mi sa Che sei Morto No Ma che Ma Ma Stai Acolo C'è Dici Vita Questa Qua Sotto Io De Fullera Io Mi Sotto E Dai Signori Non Mi ha dato nemmeno il tempo De Un attimo C'è De capi Scommodi Scommodi così Sta porca Troia Ma ci stava A mezza 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 Mai In pubblica Poi Ma tutta Sta C'era Ma Ma Da dove Cazzo Provieni Ma tutti Snappy Non ho capito Se siete Snappy Voglio tutti Quanti Senza Senza Skin Raga Se state A snaiperare Se mi snaiperate Senza Skin E capisco Che siete Snappy Voglio tutti Senza Skin Cazzo Tutti Senza Skin Cazzo Ma che faccio Non ci sto Preso Come andiamo Stavolta Che parco Siamo andati A scala Grand Andiamo Te lo dico io Dove andiamo Sul punto segreto Hai capito Quale Ah Vai Vai Non mettere il punto No 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 Il punto segreto Quello là Dove andavamo Quando Sì 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 Ho capito Ho capito Ok Ho capito Quale Va bene Andiamo Mo Io vedo I coglioni Mo Non vi faccio vedere Dove vado Mi hai scammato La sub Drift Dopo Dopo Stta partita Ragazzi Vi metto lì E faccio La sub Ragazzi Vi darò la sub Eh No Non si capisce niente In alto a destra Come fanno a vedere Lo so Possibile Dai Guardali Che Che Ci sta in mezzo Lobby No Dai Dai Non so Quasi importante No Due team Ma Dai Veramente Sì Ne vedo Due Un po' Come Che lago Aiuto Hai uno Sì Io uno sopra Lo vedo Ma è proprio Sopra Sopra Pure Barbara Non mi sta Vivo Non è Rainbow Six Ma c'è C'è uno Sopra Sopra Ma non so Come arrivarci Da me Morta Porca Madonne Mazzolo Mazzolo Te prego Mazzolo 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 C'è l'altro team Mazzolo Aspetta Come ti prendo Così Quella stramorta De Dio Che me laga Pure Porco De Dio Me laga Questa è la Full shield Full shield Oh Oh Io 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 Curemo 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 Ma Questi Sanno È uno Quittato C Che Ha visto Che Faccio Di far Cazzo Ha detto Non voglio Non voglio fare La figura De merda Con matteo Ha detto Matteo È troppo Forte Dieci A mo Tra i yardo Come un assassino Porca Troia Se vecchia Po Oddio Vabbè In realtà Al lago Ci stanno Ci sta Sia shield Tutto ci sta Oh Ci sta Uno Ci sta Uno Da me Sicuro Sì Cazzo Ma lagga Pure la Madonna Me lagga C'era Uno Qua Dentro Qua Dentro Qua Vabbè Lascialo Stare Cazzo Ma Ti fa Vedere Fatti Lo scusate Andiamo A pantano Sì Ci fugliamo Eh lo scudo Dove Dove Stava Ma è Pingato È pingato Ancora Sì 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 C'è qualcuno Che a me Sta Sicuramente C'è Quello Là Che a me Sta La sera Sicuramente Da dietro Ma Mi sono Ringuglionito Io Cosa Avevo Visto Qua c'è Un pompa Avevo Visto Una casa Alla sopra Allora Io Faccio Una cosa Bella Qua Arrivo Se ti fai Lo scudone C'è un file Scamion Che sta qua Davanti Orca Troia Oddio Ok Andiamo Ci sta un po' Di benzina Lì Benzina Bisogna trovare Benzina Bisogna trovare Allora Ora Troviamo Andiamo a Faccio il Kime Non è prima Ok Faccio Il Don Allora Vai Allora Se trovi La benzina Stiamo A posto Vabbè Sì Ma Se ne ha Poca Ce la Facciamo Tranquillo Andiamo Arrivo Ok Dove sta la benzina Dove potrebbe sta Qua dietro Qua dietro Qua dietro Ci abbiamo le gomme pure Ci ho messo Oh Quendi il pompa Ma te se lo vuoi Cazzo Non è Non è Non è Non è Aiuto Baghi No Non so Che cazzo Vogliono Qua sopra I bot Oh Cazzo Ma va Andiamo 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 Via 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 Ma so Snappy No Ok Beh a posto Ci abbiamo Lo cambio Uno full Che bello Giocare così Col cambio Un full Mi sono messo Monster truck Sopra Passiamo Qua dentro Passiamo Un po' pericoloso Però Cazzo munizioni Vabbè Ormai è andata Hai lasciato qua Ma Ah Oddio Oh C'è gente che spai Da Oh Ma te sali 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 Lupi 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 Oddio Ma te lo ammazzano Che devo fare No Lasciali Sta Oh Sparano Eh A sinistra Ma ci sta la 6 Ok Il problema qua Oddio Che cazzo è Donna Oh c'è un lama L'hai visto No Sì Facciamo Vai 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 No Da dove cazzo sca Prendilo Prendilo No A mezzo all'acqua E che non posso Buildare Io 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 Buono 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 Lo pido Sto qua su Sì sì lo prendo io Ti do un po' di mazzo Vieni Ok Porca Troia Andata contro correnti Vai Sali 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 Non li voglio Li voglio Vieni Vai 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 Ok Allora Avevo visto Un medikit Un medikit qua sotto Può essere? Non lo so Ah sì 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 Qua sotto Qua sotto Ecco Se ci servono colpi Dimmelo No 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 Giù tutto Giù tutto Allora Prendo i shieldini Che è meglio Meglio i shieldini A posto Giù tutto Dove andiamo? In safe In safe Andiamo Non ho capito Ah vabbè Mitraglietta È vero Ah vabbè Sti cazzi Ma non penso Che la userò mai Bello A posto Abbiamo in the game Ho trovato Un gecchino Viola Mincia Vabbè senti Vengo a piedi Faccio il giro E vaffanculo Non ne la faccio salire Tanto qua sto farmando Ma ora il problema È trovare qualcuno 20 persone Ah là sopra Sì 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 C'è il team là Dici È facile Con la capocchia Andiamo Andiamo a vedere No Ci sta l'ufo Là sopra Guardalo Tu dici Che è una persona Madonna No No, ti è bloccato tutto Madonna, qui si spara in gombo Cazzo Porca troia Qui si spara in gombo, cazzo Vabbè, dai Ci sta Allora Sion Ti iscrivo io, poi mi iscrivi tu, poi vediamo Sì, sì Allora, io vado su Clash Royale, vado Te ringrazio di tutto Di nulla E ci vediamo la prossima Ci vediamo dopo Ciao, io vado a comprarmi due mani, ciao 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 Ciao